Dopo gara con il capitano Benni Bertiglia, il risultato della partita è confortante assolutamente, che cosa ti è piaciuta della squadra e che cosa invece ti è piaciuta anche della squadra avversario che vi ha messo in difficoltà? Allora sicuramente noi siamo partite bene come ci era stato chiesto e ci siamo imposte i primi due set e poi diciamo che l'altra squadra ovviamente merita l'altra squadra, sono riuscite a metterci in difficoltà e purtroppo abbiamo perso un set però comunque siamo riuscite a riprenderci bene o male e a ottenere un ottimo risultato. Dunque diciamo che il terzo e il quarto set è stata più merito del Pomezia che si è organizzata e non tanto un calo fisico da parte vostra perché si può leggere da entrambi i lati. Sì in realtà secondo me è un po' tutte e due le cose perché noi eravamo un po' stanchine, abbiamo più che altro di testa secondo me abbiamo mollato un attimo e ovviamente l'altra squadra che non è fatta di giovani ma di esperte ne ha approfittato. Nel complesso ho visto delle ottime prestazioni in tutti i reparti, tu ne concordi? Sì 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 abbiamo espresso una buonissima pallavolo e nonostante questo abbiamo sempre da migliorare e cercheremo di migliorarci ancora di più. Ed infine, non so se concordi con me, il quarto set che tra mille difficoltà è stato portato via più con la determinazione, con la voglia che altro. Sì sicuramente un paio di errori arbitrali ci hanno un po' fatte arrabbiare e perdere un attimo la lucidità e poi ovviamente la nostra voglia di vincere ha prevalso e è andata bene. Grazie Benedetta, buona fortuna. Grazie a tutti.